Tribune gremite, il capitano del Paglio nella sua postazione, il mossiere Andrea Calamassi pronto a dare via alla prima batteria. Tutto pronto per l'inizio del Paglio 2024, faranno parte della prima batteria San Paolo, Torretta, San Lazzaro, San Silvestro, Baldichieri, Santa Caterina, Montechiaro. Il cavallo della Torretta ora potrebbe essere in posizione ma via, falsa partenza, tutto da rifare, vediamo se riusciranno a posizionarsi. I sette rioni protagonisti della prima batteria, dopo la prima falsa partenza. Seconda falsa partenza, 16.40, terzo tentativo di partenza per la prima batteria del Paglio 2024. E terza falsa partenza. Non c'è due senza il tre, ora la quarta partenza di questa prima batteria. Dopo tre partenze false, vediamo se si partirà ora. Via! Partiti! È iniziato il Paglio 2024, la prima batteria. Vediamo chi spunterà dalla curva in testa. La torretta sgomita. San Lazzaro in quarta posizione. Grande equilibrio. È Bagara assoluta. Eccoli arrivare. Si scalda il pubblico. Torretta in seconda posizione. Santa Caterina davanti a tutti. San Silvestro e San Lazzaro lottano per il terzo posto. Grande Bagare. Eccoli arrivare. Si conclude quindi la prima batteria. Arriva al saluto. Belfantino di Santa Caterina, che dovrebbe essere arrivato primo. Torretta e San Silvestro, se abbiamo visto bene. Le altre due qualificate. Tra poco, la seconda batteria. Prebo. C'è un forming. Eชный fenomenal. La seconda batteria. E pillo. Buon Grazie a tutti